Il punto di partenza del sentiero 719 è un incrocio della strada provinciale 277 per San Mauroforte a circa 3 chilometri e mezzo dal centro di Accettura. Si scende in direzione sud per una sconnessa stradina asfaltata circondati da poggi e piccole valli che disegnano il territorio. Dopo poco più di 2 chilometri si lascia la stradina asfaltata e si imbocca sulla destra un sentiero che scende a valle. Il tracciato passa per numerose masserie, campi coltivati e pascoli e fa toccare con mano l'importanza delle attività agropastorali nell'economia di questo territorio. Più avanti il sentiero attraversa il torrente Misegna, ora in secca. questo è il punto più basso dell'itinerario, a circa 500 metri di quota. superato il corso d'acqua ha inizio una salita che si inoltra in una rada boscaglia e che seguendo la linea di cresta, conduce in località Coste di Raia. dopo circa 3 chilometri di sentiero il percorso incrocia una nuova strada asfaltata che offre diversi scorci panoramici. dopo altri 3 chilometri di salita il percorso incontra il tracciato lungo il quale avviene il trasporto del maggio. continuando lungo la strada asfaltata si arriva ad accetturare il punto finale dell'itinerario 719 con l'acqua. un sacco più forte all'itinerario 719 Grazie a tutti.